Buonasera a tutti. Ah, pensavo avessi già commentato qualcuno invece dell'altra cosa. Allora, come lo chiamiamo questa? 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 questa roba bastardo dobbiamo invidere gente io e Mattia vedisco siamo in line oh Flavio sta scrivendo però si è ritardato quando premendo SF4 ho chiuso la live è impossibile tutto ciò come si è ritardato Sì, è lì. questo è stato nodo, ce l'ho sentito questo è stato nodo, ce l'ho sentito non lo voglio si stop? si stop? si stop? si stop? sempre sempre e non ah allora se si sente tutto io direi iniziale aspetta si sente giusto un po' distrittivo ma giusto un po' penso che Gesù ci sia dalla croce di segno di potenza ah 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 perfetto mi raccordi mi raccordi ah 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 ok ah 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 Sì, 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 sì. non è in finestra però allora questa è una campagna di roma e per chi non lo sapesse rompe dal war è un gioco di strategia a turni e in tempo reale tu sei il paese che sceglie l'est è una specie di battaglia risico infernale tutti i controdotti un po più tattiche della guerra allora noi facciamo la guerra allora stiamo facendo la campagna di roma se nel 190 avanti cristo della partita dal centro italia sono steso per cazzo miei fino alla corsica e fatto del lancio germania austria e dintorni adesso il mio obiettivo militare è l'attacco di questa città la città di istros radio ma prima dobbiamo risanare le nostre truppe che sono sposse eventi recenti ma prima facciamo questo ora si mantendiamo tutti ora è tutto a posto si sente si sente anche l'audio del gioco vabbè ma solito ci viene niente fare questo dispiare portata che voglio legare un po di torsi il mio verano mi porto di qua di qua l'ang a bambi è un cg ciao una volta paura si accusa se il boss vita con le armi se mi ha fatto la tecnologia questo aveva fatto la primavera finalmente lo volevo demolire esce la guerra bene mi scusi signor di bartolo lei si rende conto di questo esercito ancora perito questa guerra la dirighiamo speri basta qua allora vediamo che c'è oggi sì due oh ho tanti sono 20 22 28 28 28 unità i miei sono a te che mi sono un totale 25 quindi mi spiace e greggio signor prima però non c'è seguito da tenere un attimo per dirmi di lui posti non sono arrivata però per vedere questo fare le truppe 18 abbiamo superato la jance julia e dai si può rammassurare e ti consiglio di bicicletta le cuffie? ti sento? ti sento? si aia oh si 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 i luci i luci sono arrivati io non ho mai letti i luci ok si sono buttati adesso ha fatto un sacco di soldi non va bene eh non ce l'ho fatto si non lo posso farmi non lo vedo? per orari RORARIE RORARIE ALREA RORARIE i mucchini questa cosa è rotta ventana mette 10 per cento tutti i guadagni da come da qualsiasi cosa è rotta alla vecchia guadagno aumenta così aumenta ea 400 abbas solo tasse schiavi sui schiavi il commercio che queste sono le cose che ti da tutte le attività le città e ogni cosa aumenta del 10 per cento è rotta per le tasse me lo ha messo la pull a pull a pull? serve è un gioco realissimo devo dire e che ho fatto i rorari, i suoi ultimi i rorari sono tutti da solo questi si sono 40 anni che massillano, io non mi ricordo nemmeno di avergli fatto guerra è in armenia, io sto qua giù, io sto conquistando la friendel, che c'è qua, Germania? eh, sì, c'è la Germania, Polonia e questi che vogliono? e poi se accetto sarebbero pure loro, no, non ti accetti ma io ho rifiutato, mica te vabbè sono mani di protagonismo eh sì però prima erano molti dei meno, sono giunti altri i lancieri oh, ci abbiamo il posto, ci sono il riso, è importantissimo ah no ci è un riso giustante qui quindi qui facciamo questo 5 triari così è finito non serve più fa alforia che faccio solo arcieri e canali mamma mia lo stacca lo stacca la civile non so come c'è un senso avvenenale a questi non c'è un senso oh oh Il veleno il suo gioco è rotto Come lo vedi eh Gli ho messo due veleni Che cazzo C'è una percentuale di successo Sì 50% Sì 50% Di bene di bene Oh no Ma stiamo in giro che sei live Oh no 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 Oh Oh no Oh no Oh no Alla cornelia eh Per qualche motivo perché questo sai che ciao c'è una carica altissima c'è tanto niente anche la voglio eh il 70 non c'è niente 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 c'è niente adesso scusate disturbo non avevo capito e dopo vado con 18 l'entrattività non lo so la prendono i boi che cazzo avevamo invaso non so accorto che è il motivo non so bene lui muore lui che ho a legge a merda mia lecce la merda di bratti nessuno non avranno, ma ti recuperano arrivo fortifica non puoi riprovare con la spiglia eh, muovere si no 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 quello che direi è quello che vuoi ma dopo un po' se riesci a fargli a casino questi fai cominciano a non capire più chi è cominciano a panicare sei tu una spira? sei tu una spira? dai no e va no 3,2,2 si attacca su si hanno 26 e ma non sono ormai che si fa piazzate non sono ormai non sono ormai che non sono ormai che sono ormai che uff ci sono ormai che non ho valuta ci sono ormai che non ho vogliono fare qui c'è l'occa la번c'io nuori Gold you have much and our people do not wish People do not have that in the fun of the kiddo Will you not give our people a little gold you have much ma che cazzo vogliono questi oh mamma mia Cornelia, altre Cornelia non sto vendo non mi sono fatto apposta di come vuoi chiamare l'erbo no, li posso chiamare l'erbo mamma mia quanto sto sudando un po' di schiarca questo questo schiatta non facci dai 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 da mangiorni otte questo è stato un po' non ci aspettiamo la morte di qualcuno di tutti gli testato ma non alzare ma non è vero Fa male ma non è malissimo Posso ritrovare Mi faccio di questa schiena Mettere il belino nel bozzo Questa la fa Niente Ok Nella cochellata del terreno E va bene Ready for orders Commander Ready for battle War We cannot follow this order Non si deve quando c'era solo questa qua era vinta per noi Però c'è anche questa Divisioni... Ci sono spettatore la combatterei però non c'è a questo punto Però non c'è a questo punto Però non c'è a questo punto No 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 E' stato un piacere Non tutti quelli di classe mia Oh, gli ho dato un calcio, è morto Oh, si controlla Mi metto quel lato Sì, non è normale Avanti Allora, questa roba La pari di attorno Oro Oro, si Allora, io non penso che sia un po' così Che Roma sia destesa Una bomba How can I do the assistance Ready for orders Commander Ready for orders Commander To your duties, men Ready for battle At your command Come on Come on La rivoluzione Ehm Grazie a tutti. Sì, 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 sì non faccio il problema è mazzicuro cosa c'è il dulce credo 400 in più ma dove vai aspetta 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 oh aspetta la sua volu sottile che vuol dire ma niente cosa io non ho più forti l'oro c'è una cavalleria scorniva la stessa per quello perché da due lati questa cosa o lecce non ci vogliono volare rimettere in generale con sicuramente amiche subiari qua stanno bene ma lei ha detto la parte mi sono stati perché questo no 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 ho no Sì Sì La cavalleria gentilmente Non è che ha da uccidere quei dannati frambolieri E questo qua sembrava più minacciosino A dirlo tutta Oddio no No, il mio cuore schermando cuore schermando cuore Vabbè Quindi qua non ci sono frambolieri Non riuscirò a gestirli Non sono strani insieme Guarda i giri strani Sbrigado Sbrigado Divento l'istacolo se non è così che si fanno le formazioni dove passa? qui da qua si mi avete ammazzato uno uno mi fa rallentire se c'è stato il mio sull'infinato non 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 Il nostro generale è sotto attacco Sì, sì, sì Ah, bene Ah, molto bene Ah 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 un'intera unità è stata sparagliata vabbè i cavalieri un'intera unità è stata sparagliata i cavalieri vabbè 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 il generale nemico è morto non mi muoce la sera vabbè 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 ok non c'ho un'idea non c'ho un'idea oh no è rifunzionata questo è un po' troppo che era il generale non c'ho un'idea 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 oh 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 Vabbè un po' il cagotto se lo fa sempre venire quando ti dicono Tutti schiavi Scappa lo stardo Scappa che ti fa bene Guardi Cosa fanno? Oddio Sto andando Uuu 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 Oh Uuuu 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 questo e il sinistro non ci sono non è stanno veramente tanto ecco tutto a posto l'espertano io sempre mi leggero bene tutto a posto gli arbei sono anche contenta sono ucciso i boi e i narici i boi sono arrabbiati i boi i pelugi anche i pelugi sono arrabbiati nervi i boi e mi stesse non fa bene la realtà fa di boi i piccioni pervermi questo eseguolico giusto voi una vittima come si era il salio di concessi ma la partaggia un taglio dovessi dare una revisione alla sua diplomazia non c'è nessuno queste sintagiche una cosa la garamantia non si accoglie nella sua bella un giorno non grazie a tutti c'è una domanda o no Oh Iscriviti ok 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 un buonno c'è l'intero mi sembra che stai ancora indietro vogliamo non cerco un buonno un buonno c'è un buonno un buonno un buonno un buonno un buonno non un buonno 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 del tempo di cesare 150 quasi è costruito il gioco secondo me sto avanti siamo al 283 il 283 è così in 100 anni si trova che ci va avanti più ci va in fretta adesso deve prendermi tutta la zona dei nervi grande ma piccolo 5223 così permettermi di abbassare le tasse addirittura un'azione è felice non solo almeno male sento che arriva al tempio siamo almeno 3 basta non si vogliono fare lei è il buono della cia no sono difesi abbastanza male però questo è un esercizio tutto in coria l'organizzazione 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 grazie tutto verde tutto mio ora minuto a posto sì 128 solito 120 e 167 arriverà il giorno in cui il mio lezio maverso noi ho tutto questo 171 gradi test gravidas così bene non ho capito e però non riuscire a arrivare a rispettare non so se ci dovete portare fino all'oreglia della l'oreglia facciamo attaccare la surgis pensare ai stress un momento in cui magari si sono un po' calmato l'acqua ma gli stessi sono un po' agitato manca d'acquink abitato perché c'è tutto questo cibo ora è il bonifengue, questo è il suo cibo ok passiamo adesso l'armenia vi durà di fare la pace i boy non dov'essere non dov'essere niente mi vuole dare 4.000 no? 6.000? 6.000 si ma davvero non ci faccio niente col denaro io voglio le vostre cazzo parole di capitale ciao ma questi ma chi so cadendo ma chi vi caga ma che poi a te le sparta si arrabbiano perché guarda 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 quattro nemici c'è non pensi che solo a Siria come è tutto un po' la Siria solo a Siria come come alleato non basti come alleato non basti a Lanus vabbè no niente devo dire niente pure niente non sapendo che sto facendo che batte vivisci potresti anche passare dalla coria a questo punto mi servirebbe di il permesso di passare dai nervi però potrei un po' e cosa puoi fare non so che puoi fare strada oddio non hai nulla devi fare più benissimo oddio oddio e morire non posso fare lotte? no 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 lotte si posso fare una piatta cornelia cornelia palle non la voglio la damnata cosa cornelia non la virgida non la virgida non lo , non lo so per 10 in cimado sei della cornelia e schifo il suo ruolo 6 ma non mi la sta perdendo l'importanza insomma non si finisce una cento tosto roba da fa cosa stiamo su scurti a fare ok che cos'è sono sempre queste armi che mi girano per la città senza un vero motivo non hanno mai effettivamente aiutato tutti tranquilli guarda di verona oggetti stanno con il boy chi so il jade oggetti e che vedevo a fare guerra contro il boy si stanno espandendo in suebia magna germania oh mio fanatici nudi ausiliari cazzotissimi no ma cazzotissimi davvero come lo faccio non so sono pronti a invadere caso anche per la questione della differenza culturale il tempio di Nettuno si porta via 4 punti cioè 6 punti non inserente 10 10 per pagini stanno un po fuori il contesto storico questi questa partita perché partagini e io non ci siamo toccati per tutto tutta 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 la partita perché siracusa non è morto cioè dovrebbe morire si è chiuso questa ragazza lo soppeggia partaggiano anche il totale controllo di trans alpino non c'è una domanda e rimane deciso intanto in 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 stavendola permette la difesa sotto sedia in 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 orari 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 cento 30 però schiacca il tizio no questo e chi aveva visto il si 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 non c'è un po di valutare non penso che attacchi non c'è tutto questo senso uno scottatore c'è Gallia Fabri Censare con Fibbia a te mi stai ancora fedendo? non lo so il scottatore attuale no e hai scottato da un po' di un minuto in mezzo il primo politico è un mezzo attivizio è un mezzo attivizio è un mezzo attivizio è un mezzo attivizio non è un mezzo attivizio non è un mezzo attivizio non lo so ritardato è buttato lo sito turno perché sbagliato strada non accetto ah già sta difendendo vabbè non sarà tosto ci si vabbè lo so ecco front No la mia Ma se volia in cheese ma non sono ancora una vita nel tavolo a massimo melena melena dai ma sparta ciao amica mia non poi non ci sentiamo e se c'è ora solo ci tenessi contiare questa cosa noi non salivare in serio ma questo è un'eserro io devo fare così a gratis sei contento adesso oh, io non fai qui oh 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 stanzioni che bello oh 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 ... Censor, 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 censor... Calabria! Non senti niente, tu non vali niente! Hai capito? Aaaaaah! My ancestors have spoken well of you and so we offer a treat to you. The worthy make the best friends. Come on. Giulia, Cornelia, Cornelia, mannaggia! Cioè, è ferito, è un vecchio. Cosa è questo time? Mi piace a me la consiglia. Sta andando così bene, non può morire. Ancora, un po'. Questo deve morire ancora. Marco Ulpio crassipede. E muore. Cosa, un po' di potenza. Chiusa. Cosa, è questo? Grazie a tutti Oh, perché è messa così male? Eh, allora, a saperlo! Sper, sper, sper Oh, no Oh, no Sperta Sperta Sperate e bebiate la città Tanto, sempre, non troverete Difficoltà Sperzzate, va? Sperzzate Sperzate 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 confermazione 26 30 41 c'è molto da lavorare anche su Cis c'è stato e si è andato verso Francia e Spagna e si è andato verso le terre dell'est quasi al limite nel senso che si sta la terre dei luci che devono essere dei meati nel senso che è attaccato e appunto qui c'è Sarmazia, salto dei luci e poi basta c'è la Russia che non è un gioco che buono, hanno pagato quelli non è qua l'Armenia, un po' dell'Armenia non è un po' dell'Armenia che buono non è un po' dell'Armenia c'è la rivolta non so che attaccare tra i buoi e i nervi non è un po' dell'Armenia a nord a nord ho molti eserciti ho 1 flacce poi 1 2 3 4 5 eserciti svuoto questa una napoli una cosenza hanno entrato di pagare dalla nostra da noi questo bene non so se riuscirò mai a prendere nessuno per via mare mi piace non sarà mai la sceglie bene e non mi ha anche non è un nome sarà un'esplizio brevci brevci questa cosa non la dovete fare non so neanche perché avete fatto eliminare voluminare i brevci eliminare i brevci Sì, io sono di bella, di bella, di bella Eh, vediamo la fonte Che schiena è sosta? Che cosa è tutto? Eh eh! Chiali Ho messo questo offer più breve Ragazzi Un altro dovreste essere I miei diretti Sì Uuuuh Ah Uuuuh C'è una cosa del genere Sarebbe worth tantissimo Non posso eliminarvi Sete 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 Sarebbe non ci sono 10 di felice oh no adesso un posto fa molto del suo appena conquistata città città un po' un po' un po' un po' un po' quanti sono arrabbiati con me? un po' 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.